Allora, a proposito di titoli, siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana e oggi mi pare di capire, analizzando un po' il dettaglio della società Enrico, che vuoi fare un po' Paperon de Paperoni? Parliamo di una compagnia di estrazione dell'oro, giusto? Della più importante al mondo. Appunto, quindi dico come Paperon de Paperoni andava a estrarre il mito di Paperon de Paperoni, chissà cosa farebbe in questo momento di mercato economico. Detto questo, come mai questa società? Questa società perché la mia idea è che il gold sia sceso molto dai massimi in area 2.000 dollari e avevamo detto che più o meno poteva raggiungere 1.680, 1.700, eccetera, eccetera. Credo che potrebbe ancora scendere un po' e il titolo Newmont Gold Corporation, altrimenti detto Newmont Mining, ha un movimento simile e anche esso potrebbe dare ancora uno strappo ribassista, secondo me. Il grafico lo evidenzia evidentemente. È un grafico che ci aiuta perché possiamo proprio paragonarlo abbastanza a quello del gold, e quindi ci può dare una sponda quando decideremo eventualmente di entrare in acquisto. E allora, cominciamo a... La società... Sì, no, no, ti lascio finire e poi andiamo sul grafico. La società è appunto la prima al mondo per estrazione di oro, quindi cerchiamo sempre di segnalare i titoli che magari il giorno dopo non chiudano perché sono troppo piccoli, qualcuno ci vada a maledire. E quindi il settore è questo e poi c'è la solita analisi tecnica che secondo me anche su Newmont è estremamente chiara e possiamo iniziare, se sei d'accordo, a vederla con il grafico weekly. Sì, eccolo qui. Eccolo qui. Beh, vediamo come si sia perso il supporto orizzontale in area 58 dollari e poi proprio con la candela di questa settimana si stia perdendo anche il supporto quello dinamico, ossia diagonale, che passava per i 50 dollari, quindi si perde anche con un gap, quindi abbiamo segnali negativi su tutta la linea, perdere due supporti con un gap e perdere anche i 50 dollari, che è una soglia psicologica chiarissima, cifra tonda, è un qualcosa che ci fa pensare che potremmo avere anche un tentativo di pullback di uno o due giorni, andare a riprendere i 50 dollari, quindi la linea verticale che fungerebbe in questo caso da resistenza, per cui la siamo sotto, e però credo che poi si potrebbe avere, proprio ostante la situazione evidente di downtrend ripido e profondo, una prosecuzione ancora ribassista per qualche periodo, che potrebbe portare poi a dei livelli estremamente interessanti in ottica di acquisto, anche di medio e lungo periodo, perché questo titolo aveva i massimi in area 88, quindi ora siamo già con un meno 50% circa, quindi il titolo più importante al mondo per l'estrazione dell'oro sta perdendo il 50% dai massimi, dobbiamo metterlo avendo un minimo di buon senso in watchlist. Ok, certamente, andiamo a vedere… Passiamo al daily, esatto, abbiamo anche il grafico del… Non ti faccio tutto io, oggi non ti faccio parlare. Guarda, io se lo sapevo stavo anche a casa, guarda Enrico, eccolo qua. La prossima volta magari avvisami per tempo, così diciamo… Guarda, faccio tutto io, faccio tutto io. Esatto, eccolo qua il grafico daily. Allora, il daily è altrettanto chiaro, il movimento ribassista, profondo, ho messo il grafico lineare in questo caso, perché qui non ci interessano pattern particolare di candele, ci interessa attendere il livello che viene raggiunto, il livello in questo caso da monitorare è area 36 dollari, perché vediamo essere un livello supportivo di lungo periodo, quindi dal 2019 e dal 2020, un livello supportivo doppio, perché abbiamo la retta orizzontale, quindi il supporto statico, e la retta, la trend line dinamica, quindi quella leggermente inclinata, e insieme vanno a coincidere proprio in area 36 dollari, e quindi quello è un livello che se raggiunto, probabilmente dovremmo poi vedere se tiene, e se da lì inizia a rimbalzare, e a quel punto credo sia ottimale, cercare un acquisto di medio-lungo periodo. Ottimo, allora, intanto questo era il titolo nel merino della settimana, quindi stock picking, l'abbiamo già detto Enrico, per chiudere la rubrica appunto della settimana, e poi, insomma, un suggerimento che magari non vale sempre, ma sicuramente può aiutare, è cercare titoli che non abbiano volumi troppo sottili, giusto? Sì, perché i volumi troppo sottili sono idonei a dare falsi segnali, c'è poco da dire, uno può cercare un titolo con volumi sottili, se vede che quel titolo gli piace per core business, per dati, per il settore nel quale opera, e allora diventa come la numero uno di Zio Paperoni, la prendo, la metto sotto la teca, e non la guardo, ok, però lì analisi fondamentali, analisi tecniche, dobbiamo cercare titoli importanti, scesi molto, e che abbiano dei livelli supportivi ormai vicini. D'accordo, allora, grazie Enrico anche per questo titolo, che mettiamo nella nostra watch list.